Allora, doveva essere il secondo intervistato, forse perché sempre era di noi per l'ottica di quel firruge, dopo il professor Sgueo, visto che quel giorno di marzo era nato, diciamo così, una bella sintonia e allora noi di noi, prima era ancora Rexando, abbiamo chiesto a Lorenzo, innanzitutto di divenire a San Donato, perché, diciamo così, Milano ormai è diventato uno di quei, si dice in inglese, place to be, di quei posti dove veramente negli ultimi anni è nata una crescita tumultuosa, ma più che una crescita fisica, anche una crescita energetica, una crescita di desiderio da parte di cittadini, di andarci, di viverci, di viverla, penso che negli ultimi cinque anni, dato sul fatto che Milano sia diventata una città più visitata da parte dei turisti di Roma, dica tutto, cioè chi è stato a Roma sa che è una città meravigliosa, ma al giorno d'oggi bisogna anche metterci quei contenuti di vita vissuta, paradossalmente anche il leggere su una pensierina che un tram arriva in un certo orario e vederlo arrivare veramente e quindi la qualità di vita che si può riscontrare adesso a Milano è cresciuta talmente tanto che, quindi l'abbiamo detto a un amministratore di una giunta così importante di staccarsi un po' a Dominano e di venire a San Donato, tu sei stato molto gettile sul Cudento di Sì e stasera finalmente diamo corpo a questo incontro avvenuto in marzo. In realtà abbiamo avuto un incontro precedente, abbiamo avuto un incontro nel novembre dell'anno scorso e forse eravamo un'unica realtà non fanno la tese che era venuta a chiederti conto, a interagire, a disturbarti anche su un progetto partecipato, c'era questo incontro in una scuola di via Feltre e tu molto gentilmente siamo ricevuti, hai parlato con noi e ti erano già contattati. Questo qui è un po' il discorso in generale che vorrei fare con te. Per inquadrare chi è che sei, anche per chi non ti conosce, io partirei nel 2011. Tu nel 2011 eri il Presidente o il coordinatore, come Fiorello, il Comitato Scientifico, nel Comitato Milano si muove. Si dice sempre che, voglio dire, quando uno entra in politica, naturalmente c'è già dentro, però spesso e volentieri si buttano i sogni, poi quello che viene, soprattutto in un paese come il nostro, tutto grasso che cola, se si riesce a fare il 20-30% di quello che si programma, è così. Direi che se uno legge i punti che vi eravate proposti di portare a termine in Comitato Milano si muove, direi che dal punto di vista personale è stata una bella vittoria. Se vuoi lancare i punti e se vuoi lancare che cosa portate a casa? Comitato, grazie, innanzitutto, buonasera. Il Comitato Milano si muove era un comitato che metteva insieme diversi soggetti della politica e dell'associazionismo per ragionare su una visione di trasformazione urbana in senso sostenibile, ecologico, ambientale, di Milano alla vigilia di fatto delle elezioni del 2018, c'erano di mezzi radicali a cui appartengono, i verdi, la lega ambiente, i genitori anti-smog, tanti soggetti che hanno promosso un pacchetto di 5 referendum che erano di fatto un programma complessivo di visione di trasformazione urbana che prevedeva l'istituzione della tarifazione per l'ingresso con le auto private al centro di Milano, quella che poi è diventata l'area C, però all'epoca indicavamo l'obiettivo, non certo, la misura. Finalmente i santolantesi sanno chi è responsabile, perché lì dentro c'era l'estensione del teleriscaldamento in ambito di energia di riscaldamento delle abitazioni, c'era tutta una questione di potenziamento del trasporto pubblico, c'era la visione del recupero e riscoperta e riapertura del patrimonio dei lavindi milanesi come elemento naturale, riscoperta dell'elemento naturale. A Milano c'era la trasformazione dell'esposizione di Expo in un grande parco e devo dire forse questo è veramente il punto su cui si può dire che lì non c'è stata partita, nel senso che il quesito recitava che volete conservare il grande parco agroalimentare che ci sarà per Expo, che avevamo la vigilia di Expo, Expo è cambiato nel suo DNA profondamente, nel senso che il parco agroalimentare non c'è stato per l'esposizione internazionale e di conseguenza non è stato conservato, oggi hanno preso tutta la testa. Su tutte le altre questioni devo dire che i referendum mettevano delle scadenze molto avvicinate, perché si parlava entro il 2015, entro il 2018, quindi a due o tre anni, con i tempi della pubblica amministrazione che ho imparato a conoscere meglio una volta entrato dentro, cioè forse doppio tripli rispetto a quelle che sono le più rose aspettative, nel senso che non ci sono cose che riescano a fare di meno di 8-10 anni se sono dei progetti grossi e ambizioni. Però conoscendo la lentezza ma anche l'inesorabilità dell'amministrazione non sono determinate, devo dire che per il resto del programma è stato portato avanti e se oggi prendiamo l'elenco di tutte quelle cose, praticamente possiamo dire che a distanza di un decennio le cose sono andate esattamente come avevamo intuiti, ma per dirti chi è responsabile. In questo caso si può dire che è responsabile più che il comitato sono stati cittadini, cioè noi siamo riusciti ad imporre una forte visione di cambiamento attraverso l'attivazione dal basso di strumenti a disposizione all'interno degli strumenti regolamentari del Statuto del Comune di Milano che hanno fatto forza alla politica per portare avanti dei provvedimenti che erano potenzialmente molto impopolari, cioè l'idea di mettere una tassa sull'autoveicolo, diciamo, chi te lo viene a dire in campagna elettorale, magari lo fanno il giorno dopo, non certo prima, invece lì ci furono oltre mezzo milione di cittadini milanesi che andarono, forse quello sull'area C è stato quello della differenza degli altri che ottennero dei risultati tra il 90 e il 98%, quello più basso 75% impavorevole, ma comunque una balanga di uno. Quindi per dire, la responsabilità e la competenza e diciamo anche il livello di responsabilità delle persone quando messe davanti ad una visione chiara, spiegata e dettagliata dà forza alla politica per riuscire a fare veramente delle cose di rompente. E di fatto dopo quell'esperienza, insomma, io sono andato avanti a portare avanti queste cose, è stata un po' quella che ci ha consentito, sullo slancio di quell'esperienza, anche di continuare e di arrivare oggi ad occuparmi dall'altra parte, se vogliamo, dell'attivazione di strumenti di partecipazione che consentano ai cittadini di avere degli strumenti per poter proporre, essere consultati, dire, decidere sulla conduzione della vita, delle decisioni dell'amministrazione. Dunque già all'epoca quello che tu dimori, con Fiorello e gli altri che contribuirono a quella stagione, era che l'ambiente già dieci anni fa, però già c'erano delle maggioranze consapevoli che era lì che si giocava, diciamo, nella sfida del futuro, perché dopo neanche un anno ci furono, o forse neanche dopo pochi mesi, le elezioni comunali a Milano e Pisabia, che bene o male aveva sposato un po' questa visione del referendum in quella fase, vinse le elezioni, Letizia Moratti che aveva la spinta da sindaco uscente aveva puntato tutta la campagna sulla questione della sicurezza. La sicurezza non ha pagato in quel caso, poi sono uscite anche dei sondaggi che effettivamente confermavano come invece i cittadini erano consapevolissimi che l'ambiente era il terreno di sfida e quindi premiarono chi su quel terreno aveva deciso di provare a porre delle soluzioni. Io vedo nella tua slide forse un'azione concreta, no forse un'azione concreta di quella di cui stai parlando, un patto di collaborazione. Allora io, se ho letto bene, i cittadini che hanno partecipato, non sono partecipati, non so se c'è stata fatta una media o nell'ultimo, sono 27 mila. Sì, sono circa 30 mila che hanno avuto un percorso lungo sei mesi, otto mesi, quindi diciamo a seconda delle varie fasi. Ecco, diciamo che noi siamo andati, abbiamo avuto tre bilanci partecipativi, ma la domanda è, uno prende la massa di cittadini che c'è a Milano, cioè tu personalmente su Milano cosa parliamo? Un milione di votanti? Un milione di votanti, quindi il 3% della popolazione elettorale di Milano ha partecipato. Ok, ecco, diciamo, questa è una sfida linta, una sfida che può essere migliorata sicuramente, sì, com'è che vivi queste percentuali? Allora, in attitudine è un progetto di ricerca curato con l'Università degli Studi di Milano, il Dipartimento di Informatica che ha dato vita alla Fondazione Rete Civica Milanese, che ha fatto un progetto di ricerca per capire chi è che partecipa a questo genere di cose, come fare a stabilire degli ambienti e degli ecosistemi di partecipazione digitale, quindi abbiamo tantissimi dati su chi sono e come hanno partecipato a questo bilancio partecipativo. I dati ci dicono che non c'è una distinzione di genere, 50-50 più o meno, sulla partecipazione, non c'è neanche tanto una grande, diciamo, gap rispetto agli strumenti digitali, nel senso che dove sono progettati bene gli strumenti digitali sono anche accessibili, soprattutto se li accompagni a delle modalità di assistenza, di avvicinamento, di spiegazione, di facilitazione, che è insostituibile, perché noi possiamo chiudere canali tradizionali e dire imparati ad usare il computer verso il digitale, bisogna accompagnarlo, ma se fatto nella debita misura questo non è stato un problema. Quello che invece abbiamo registrato come un grosso gap è stata la partecipazione delle fasce marginali della popolazione. A Milano ci sono il 20% di popolazione immigrata e devo dire che qui siamo sotto l'1% di questi 28 mila che ha partecipato a un progetto che non ci potete costruire. Questo ci costringe e tra l'altro, se andiamo a guardare i dati rispetto alla fascia di istruzione, oltre il 50% invece sono i diplomati e i laureati, quindi diciamo assolutamente non sovrapponibile a quella che è la composizione dei cittadini e del Comune. Io da un lato lo considero in ogni caso un'esperienza di successo, perché è stato uno strumento su una città grande, io so che a San Donato le percentuali di partecipazione su tutta la popolazione sono molto più alti, sono due cifre e questo da un certo punto di vista è più facile, in realtà diciamo più piccolo. In realtà grossa io considero comunque una cosa positiva perché è stato progettato soprattutto per dare un luogo di espressione a quelle realtà che avevano già in tasca delle progettualità e avevano voglia di proporle e realizzarle in seme all'amministrazione. Tipicamente l'associazionismo, il comitatismo, i gruppi di pressione che organizzano idee e consenso sul territorio, questi hanno partecipato in massa e questi hanno avuto un canale di interazione. Per poter andare oltre dobbiamo iniziare a parlare di quello che è la sostenibilità della partecipazione, che vuol dire i costi della partecipazione, le competenze, il personale della pubblica dell'amministrazione in grado di progettare e gestire, anche solo acquistare i servizi di facilitazione su queste cose qui e quindi iniziamo a parlare di quanto vogliamo metterci sopra su questo genere di pratiche. In altri posti la regione Toscana e la regione Emilia-Romagna hanno fatto dei modelli di sostenibilità basati sul finanziamento pubblico di fatto delle regioni che sono sicuramente più dotate ai comuni, anche i comuni in Milano, ha sicuramente più risorse di quelli più piccoli come San Donato, ma c'è un tema di sostenibilità, le regioni progettano, certificano e pagano i progetti partecipativi. Perché? Per andare ad ingaggiare comunità straniere che magari hanno poca, diciamo, a rifugine, anche dimestichezza alla relazione con le istituzioni, magari sono rifugiati che hanno delle esperienze di contrasti forti con i loro paesi, i rapporti con le istituzioni si fanno vivere quando vogliono creare dei problemi e quindi tendenzialmente non hanno piacere ad entrare in un rapporto. Quindi prima di creare fiducia? Bisogna creare un rapporto con i cosiddetti gatekeepers, con i rappresentanti community leader, che è una cosa che impiega molti anni, impegna in questione di rapporto della fiducia, è qualche cosa che va anche molto oltre alla questione della cittadinanza digitale che agevola, ma forse è l'ultimo tassello di un percorso che è molto lungo. Però tutto questo è basato, ruota tutto sommato un po' intorno al concetto di fiducia. E quello che devo dire è stato il grande insegnamento per i 30.000 che hanno partecipato, ma soprattutto per i funzionari del Comune di Viano, è stata la grandissima crescita collettiva che c'è stata nel mettere insieme a lavorare tra il tavolo la competenza civica dei cittadini che conoscono il proprio territorio, le proprie esigenze, sanno come tramontarle in provvedimenti efficaci per risolvere i loro problemi e portare avanti i loro obiettivi e il sapere tecnico che ha dei livelli per i cittadini, si arriva dalla legislazione, di complessità che veramente è dominio, non dico di pochi, ma di persone che lo sanno fare in maniera molto competente. L'incontro di queste cose ha creato veramente una, credo una nuova consapevolenza, un nuovo modo di fare amministrazione, amministrazione condivisa, amministrazione aperta, che ci mette in una nuova prospettiva. Allora, 4 minuti, io tiro 4 minuti per due cose. Uno, innanzitutto questa è una serata di, diciamo, boscate, quindi come Fiorello ha detto cosa pensa, come il Comune di Milano sta sviluppando il tema degli scali ferroviari, io ti do il diritto di direplica e di perorare anche la causa perché l'editoro è sposato. E un'altra cosa, mi sembra che il bilancio partecipativo di Milano non potesse essere fatto né a cavallo di due zone diverse, né soprattutto tu con i Comuni di Mitrofi. Noi eravamo venuti lì appunto per perorare la causa di un collegamento tra San Donato e Milano, tra l'altro, che arrivasse fino a un città studi. Ti chiedo se questa visione interconnessa anche tra municipalità diverse potrebbe essere un upgrade rispetto a quello che vuole fare. Sicuramente il rapporto tra Milano e San Donato è viziato dal fatto che le dimensioni dell'abitare e della proiezione di un territorio dei cittadini sono diverse rispetto a quelle che sono i perimetri amministrativi delle nostre realtà. Milano va ben oltre i confini di Milano e San Donato ha un rapporto necessario con Milano e con gli altri Comuni che gli stanno intorno, per cui ci servirebbe molta più collaborazione, ma non è solo nel diciamo nel voler fare, insomma, servirebbe proprio a livello normativo degli strumenti per poter collaborare. Che noi accusiamo il bilancio del Comune di Milano per fare degli interventi fuori del confine comuniano è una cosa tutta da vedere, da studiare sul fatto della fattibilità se non all'interno di accordi particolari dove si riconoscono, insomma, penso alle metropolitane dove sono dei veicoli dove ognuno mette una parte, si trovano degli accordi negoziali, insomma, non sono cose assolutamente semplici. E questo ne parli di rinuncio. Da un lato noi abbiamo l'interesse che le persone arrivino in metropolitana e non in macchina perché poi ci troveremo a dover gestire il problema della sosto, dell'inquinamento sotto casa e quindi avremo l'interesse a pagare le metropolitane fuori. Da un lato però, insomma, c'è anche da dire che poi anche i Comuni che hanno i cittadini dovrebbero occuparsi di loro cittadini e quindi compartecipare a queste spese. Ma nel frattempo, diciamo, quando sono sotto casa magari mi viene a prendere per la strada del biglietto, del corso a sigla a 2 euro perché i cittadini e i comuni di Milano hanno visto un aumento, però quelli di San Donato e degli altri adesso con la strada di San Donato è il 30% a strada del contribuente milanese, se vogliamo, l'abbonamento per quelli che non sono cittadini milanesi, i nostri elettori che vogliono prendere un abbonamento nuore per venire. Quindi un po' questa visione c'è stata. Comunque si tratta, secondo me, e qua apre un grandissimo discorso di ripensare i livelli della rappresentanza locale, cioè tutta la questione del fallimento della legge del Rio e delle città metropolitane che di fatto hanno ucciso le province creando un vuoto perché le città metropolitane non fanno quello che dovrebbero fare, di creazione di ambienti ampli di governance del territorio. C'è l'ultimo, ampiamente la città di Milano è avvenuto nel ventennio, quando c'era un'autorità in grado di imporre che i confini amministrativi cambiassero, oggi la città è andata esplodendo, tutto intorno non c'è soluzione di continuità, ma per riuscire a pensare ad una nuova dimensione di governance ci hanno provato intanto non c'è riuscito nessuno. Tu pensi che come sono felicelli che avrebbero dovuto dire questa cosa, la dici tu, meglio di così? Bisognerebbe, ci sono tanti modelli, c'è chi dice che bisogna mandare i vigili urbani a fare annessione sul comune vicino e vediamo chi la spunta, oppure che bisogna spacchettare il comune di Milano nei suoi municipi e esisteranno i nuovi municipi del comune di Milano all'interno della grande area metropolitana vasta, sul modello di Bruxelles, infatti, non è qua che alla fine possiamo discutere queste cose, ci sono temi anche nazionali, sugli scali posso solo dire che è un tema che ha abbracciato più di un'amministrazione, cioè vi è addirittura l'amministrazione precedente che ha rigettato un accordo sugli scali e ci sono un sacco di tematiche anche legali sulla natura giuridica di queste cose che sono delle società pubbliche ma di diritto privato, per cui a seconda di come le prendi bisogna intendersi, quindi non mi sono occupato completamente di quel percorso di coinvolgimento dei cittadini che comunque è avvenuto e ha demurato più di un anno, più di due anni, più di tre anni e credo addirittura si prendeva dalla vecchia amministrazione un lungo percorso di avvicinamento che con le sue caratteristiche e le sue critiche del tutto legittime ha comunque dato la possibilità di esprimersi a migliaia o decine di migliaia di cittadini su una visione che non è solo contenuta nell'accordo sugli scali ma che fa parte tutto in modo coerente di un pacchetto di provvedimenti che poi sono arrivati a maturazione nel corso di questa amministrazione che sono piano urbano della mobilità sostenibile, piano di governo del territorio, piano dell'energia sostenibile e quello che andremo ad approvare entro i prossimi 12 mesi, il piano area-clima che è quello che reagisce alla dichiarazione di emergenza climatica e che dovremo sviluppare nei prossimi 12 mesi sul percorso partecipativo potente dove prendiamo tutte le suggestioni degli ultimi piani in questo tipo citato, quindi il contributo della mobilità, degli edifici, dell'agricoltura, adesso l'agricoltura spesso non ce la dimentichiamo o la consideriamo parte della soluzione perché il verde alla fine è bello passeggiare nelle esorgive, nei campi, ma ancora oggi tutta la filiera della produzione alimentare contribuisce al 30% delle emissioni di gas climateranti, il metano degli allevamenti, tutta la questione dell'agricoltura intensiva e questa cosa come la mobilità, come l'abitare è legata fortemente agli stili di vita individuale. Io se posso concludere su questo, un po' tornando anche al referendum, sono stati i cittadini che dal basso si sono organizzati e hanno dato il coraggio alla politica usando strumenti formalizzati di partecipazione per ottenere un risultato, così anche sulla questione del clima, è giusto il momento della manifestazione ma bisognerà trovare dei canali istituzionali per riuscire a proporre, portare avanti e dare la forza per dei provvedimenti, di cambiamento che sono studiati, approfonditi, codificati e che alla fine dei conti possiamo prendercela con l'amministrazione comunale, con lo Stato, o i governi, con le cose grosse, ma sono sempre basati su una forte consapevolezza del cambiamento individuale che può avere un riflesso sull'euro, perché poi alla fine la politica, si dice tanto male della politica, però riflette quelle che sono le istanze, ma per una ragione di interesse, perché uno anche semplicemente per potersi conservare l'istinto di conservazione si è portato ad andare dietro a quelli che sono il tema del momento o di questo genere. Se la questione climatica è la questione del momento, non dobbiamo solo chiedere alle nostre istituzioni di fare qualche cosa, ci sono dei piani complessissimi, sì, sarà un problema andare a spiegare, ma dobbiamo rassegnarci al fatto che il traffico privato va disincentivato e quindi bisogna allevare parcheggi, bisogna fare la guerra al fatto di avere la possibilità di avere macchina fino sotto, bisogna costruire l'infrastruttura di macromobilità, dobbiamo cambiare il stile di vita a partire dall'alimentazione, cambiare come ci spostiamo, cambiare come mangiare, sono cose fastidiose per le persone, poi si può usare le cose che dice Gianluca Sguero, l'incentivo, però alla fine dobbiamo dimostrare che siamo noi primi, che abbiamo intenzione di vedere un cambiamento e poi usare gli strumenti che ci sono per canalizzarlo nei canali istituzionali e fare in modo che possa essere accompagnato in modo efficace su delle prove diversi efficaci. Quindi chiudiamo il tuo intervento dicendo che il nostro titolo Camionamenti urbani e Camionamenti umani è casissimo. Esatto, Camionamenti urbani ed individuali, se stava all'urbe come una somma di individui. Ti faccio solo un commento sull'altra cosa che era la slide che avete visto per un po', la questione dei patti di collaborazione, che altro non è che una forma che abbiamo studiato a livello del Comune di Milano per dare la possibilità ai cittadini, anche organizzati in gruppi informali, erano sempre più 88 social street, nel Comune di Milano centinaia di comitati di gruppi informali, ormai la gente non fa più l'associazione, non fa più la fondazione, si ritrova per risolvere un problema, quando l'ha risolto cambia associazione, cambia nome, non ha neanche un codice fiscale, rappresentante legale di Conti in Bani, quindi dovremmo cercare di trovare una maniera per riuscire a rapportarci anche formalmente con persone che sono completamente libri. In collaborazione, approvato a maggio dal Comune di Milano, ha già 45 patti di lavorazione, 15 già realizzati, che vedono alleati il Comune di Milano di una parte e i soggetti informali dall'altro per realizzare i progetti comuni, non solo la cura del verde, da cui nasce un po' questa esperienza, ma anche la gestione di mobili, la gestione di grandi progetti di trasformazione urbana, noi adesso abbiamo tutto questo progetto di piazze aperte, di urbanismo tattico, dove i cittadini vanno a trasformare di solito delle piazze che sono occupate della sosta veicolare privata, via le macchine, riappropriazione dello spazio, arredo urbano verde, disegno aperto, cambio di ospeda. E questo lo fanno, l'amministrazione mette l'assicurazione in materiale, ma i cittadini, quindi è la richiesta che viene dal basso di gente che vuole e che se lo realizza. Perfetto, quindi hai usato anche alcune parole che saranno nel link per la prossima persona che verrà a discutere con noi. Io ti ringrazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.